E allora amici, ben ritrovati in questo nuovissimo video, come va? Spero tutto bene, sono ritornato dalla Sardegna, sono ritornato da questa settimana di pausa, come avete visto anche nell'unboxing precedente a questo video, sono ritornato carico di novità, ma soprattutto carico anche di prodotti che ho testato durante questo periodo anche, tra virgolette, vacanziero, tra cui questo prodotto molto molto interessante, questo TP-Link M7000, che è presente anche su Amazon in due versioni, l'M7000 e M70002, è praticamente lo stesso prodotto, soltanto che questa qui è la versione più aggiornata, con un chipset più aggiornato, ma sono praticamente identici, non cambia niente perché appunto TP-Link non ci dà nessuna informazione al riguardo, quindi sono due prodotti assolutamente identici. Che cos'è questo TP-Link M7000? È un router portatile, la classica saponetta viene chiamata così in gergo perché di solito era stata molto utilizzata ed continua ad essere molto utilizzata agli operatori telefonici che ce la propinano in qualche modo, adesso poi con, diciamo, con le reti in fibra ottica che aumentano, con gli smartphone che fanno benissimo da hotspot, è diminuita un po' questa richiesta. È un prodotto secondo me utile per molte persone che spesso sono in viaggio, che spesso si spostano, in questo caso io l'ho testata in vacanza appunto per chi si sposta in una casa vacanze, è un modem portatile che si collega appunto attraverso una rete dati, quindi attraverso una sim dati di un operatore mobile, in 4G fino a 150 megabit, quindi non è abilitato purtroppo al 4G+, che riesce a collegarsi a diverse frequenze, appunto la velocità di download arriva fino a 300 megabit, quindi praticamente il doppio del classico 4G. Però sono numeri che restano sulla carta perché poi alla fine quello che fa la differenza è sempre la copertura dell'operatore che andate appunto ad utilizzare purtroppo. Cosa ci permette di fare questa saponetta, questo hotspot portatile? Molto semplicemente lui crea una propria rete wifi che ha un proprio nome, una propria password, inizialmente per conoscere la password e il nome della rete basta aprire lo sportellino qui dietro e qui sopra qui trovate appunto il nome della rete e la password, che poi con grande semplicità si va a cambiare attraverso la propria app ma poi ci arriviamo e quindi ci consente con grande semplicità di collegare fino a 10 dispositivi. Vi ricordo che basta inserire una sim standard, quindi la classica sim di grandezza standard che si usava qualche decennio fa ormai però in questo caso TP-Link ci viene incontro e nella confezione ci aggiunge appunto i due adattatori in plastica se abbiamo una micro sim o comunque abbiamo già una nano sim. Si parla quindi di hotspot portatile perché appunto c'è una batteria che come vedete si può smontare semplicemente e questo ci consente anche poi magari in futuro di poterla sostituire con grande facilità. È una batteria da 2000 mAh che TP-Link ci dice che insomma arriva fino a 8 ore. Credo che sia stata un po' generosa TP-Link con questi dati perché secondo me 8 ore sono tanti e sono abbastanza inarrivabili. Se si riescono a fare 3-4 ore, 5 ore intense ci si arriva. Però insomma avendo una batteria molto piccola questo ci consente anche di ricaricarlo con grande facilità con il proprio cavetto che esce in confezione, il classico micro USB perché ad esempio possiamo collegarlo ad un power bank che ormai insomma abbiamo quasi tutti perché siamo ostaggio di queste batterie che durano pochissimo oppure possiamo ricaricarlo con molta semplicità al nostro laptop o basta collegarlo ad esempio anche all'alimentatore dell'iPhone, quello lì da 5W, quello piccolino quindi un qualsiasi alimentatore USB per smartphone che sia 5W, 1A va più che bene insomma no? La configurazione è molto semplice aprendo lo smartphone perché appunto esiste proprio un'app proprietaria TP-MiFi per i più smanettoni esiste anche la versione browser come un classico router no? Di un operatore telefonico basta digitare sulla barra 192.168.0.1 e entrate nel pannello di controllo che vi consente anche di fare insomma delle impostazioni di scegliere ad esempio se volete navigare in 3G, in 4G, di cambiare la password, il nome della rete di controllare che ne so quanta banda consuma vi consiglio di disattivare la modalità di risparmio energetico perché altrimenti all'improvviso vi si spegne come è stata la mia esperienza personale di questo TP-Link M7000 dopo una settimana in vacanza dopo diciamo un totale una quindicina di giorni che comunque lo sto utilizzando è stata abbastanza buona ovviamente quello che fa la differenza è l'operatore telefonico che scegliete in base al posto dove siete io ad esempio per semplicità per non avere sbattimenti ad esempio ho fatto una sim di Iliad che credo sia la più economica e la più veloce da fare perché la acquistate o in un negozio in una cartolibreria o comunque al totem in un centro commerciale in un punto Iliad eccetera ed è la cosa più veloce per non avere abbonamenti per non avere contratti a scadenza insomma clausole eccetera eccetera dall'altro lato purtroppo non ha una copertura grandiosa ho notato che Iliad non è un gran checom infatti ad esempio la settimana che sono stato in Sardegna ho notato che nel posto dove stavo io funzionava meglio la rete 3G cosa incredibile nel 2021 era più stabile la rete 3G nell'appartamento dove stavo io però stavo anche a piano terra magari anche quello influenzava tanto perché poi comunque segnale spostandomi era abbastanza buono l'ho utilizzato soltanto 3G quindi forzando nel pannello di configurazione l'utilizzo solo in 3G ed era molto molto più stabile la connessione e quindi sono riuscito anche a fare un po' di cosine mie insomma esperienza personale fino a un certo punto nel senso che il prodotto è valido dipende sempre l'operatore che utilizzate quindi prima di acquistare questo prodotto o comunque prima di fare un contratto con un operatore vedete bene in base all'utilizzo che dovete fare quindi se dovete portarlo in una casa vacanza se dovete andare un posto in particolare insomma informatevi bene in quei luoghi quale operatore è migliore diciamo che oggi ormai quasi tutti gli operatori prendono bene sul nostro territorio però ecco ci sono quei buchi quelle zone bianche che magari a volte sono più coperte da un operatore rispetto ad un altro una cosa importante mi raccomando quando acquistate una sim nuova prima di inserirla qui dentro mi raccomando disabilitate il pin perché altrimenti lui non riesce a collegarsi con l'operatore sono compatibili tutti gli operatori anche quelli virtuali quindi andate con tranquillità e fa lui automaticamente la configurazione dell'operatore non dovete stare lì a inserire i dati di configurazione quindi questa è una cosa super super comoda sicuramente non lo si può paragonare ad un modem router vero e proprio quindi se avete ad esempio esigenza di avere un modem router per controllare ad esempio la domotica di casa eccetera eccetera sicuramente non va bene a questo caso vi consiglio di guardare altri prodotti ad esempio anche della TP-Link che fa dei modem router proprio 4G e anche 4G plus vi consiglio ad esempio di guardare l'Archer MR600 ve lo lascio anche qui in sovraimpressione vi lascio anche il link in descrizione di Amazon se volete andare a guardarlo quello ve lo consiglio perché è un prodotto molto molto interessante ho visto un sacco di recensioni un sacco di video su YouTube ne parlano super bene e ha comunque una ricezione una qualità di segnale ottima è già un modem è già un router ha già una gestione di sicuramente più dispositivi di questo ha una velocità maggiore appunto di scambio dati e quindi di qualità appunto insomma della rete wifi e vi consente appunto anche magari di metterlo ecco in una casa vacanze in una seconda casa nella casa in montagna dove magari avete bisogno di installare una sorta di domotica quindi un antifurto delle telecamere IP di sorveglianza questa roba qui è una soluzione per chi viaggia per chi ha bisogno di una cosa portatile smart semplice non ingombrante che non ha niente a che vedere con un modem router fisso commento finale ragazzi io mi son trovato abbastanza bene il prodotto comunque è buono il tutto dipende dall'operatore che mettete dentro e che utilizzate in base alla zona dove siete è quello che praticamente vi fa vi fa svoltare la rete io ho fatto diversi speed test con la sim di Iliad ovviamente in base a dove sono il segnale cambia però lui gestisce molto bene la rete wifi per il prezzo che costa secondo me non c'è nient'altro da dire cioè funziona bene ve lo consiglio anche io e anzi vi lascio proprio il link in descrizione se vi va insomma se volete dare un'occhiata se volete acquistarlo vi lascio il link in descrizione di Amazon che lo trovate sempre ad un prezzo veramente ottimo e allora amici siamo in conclusione di questo video spero sia stato interessante come al solito vi chiedo di lasciare un like e di condividerlo con i vostri amici interessati vi ricordo che sono su Instagram vi lascio il link in descrizione mi raccomando seguitemi su Instagram per restare aggiornati su tutte le ultime novità su tutto quello insomma che combino iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare aggiornati su tutti i video futuri per oggi è tutto noi ci vediamo con tanti altri video eh stanno arrivando un sacco di video intanto io qui continuo a giochicchiare ciao